Nooo, no, no, no. Questi cosa sono? Minchia fa impressione questa. Locuste? Come sono cucinato queste? La salsa barbecue. Ma con la soglia? L'odore è buono infatti perché sa di soglia. Ma intera, anche la testa. Non bisogna spulparle. Ma che schifo! Io sono una signorina. Guarda. Ma è buonissimo. Sembra il crispy manzo. Senti com'è sclocka. Questa è credo di averla mangiata al ristorante cinese. Cioè senti la carne dentro e li volcono fuori. Più le zampe. C'è un po' di aletta. Di pollo. Di bestia. Ma non l'hai ancora mandata giù? No. Va bene avanzarne una. Galateo. Queste cosa sono? Cammo, quindi per la pescara. Chi l'ammazzava? Almeno è morto. È morto, di sicuro. In odori. Hanno i peli. Non sono i peletti, sono le zampine. 3, 2, 1. Ma lo massi che lo ingoi? Dentro scoppia. Proprio scoppia. Proprio riprenderò male. Sa di niente. È una consistenza che è vergognosa. Esploso qualcosa. Ho sentito un'esplosione di freschezza. Esplosione di gusto. Mmm. Mamma mia che zanfa che è arrivata. No, 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 no. Cosa sono questi? Musche? No, questa è uvetta. A grilli? Grilli. Guarda, questo ha degli occhi. Questo ti guarda anche. Ma sono conditi col vino? Ma li avete acchiappati voi uno a uno? Questo odore non mi piace per niente. No, invece ne sa di sale, pepe, olio e cipollotto. Cipollotto è vero? Vai, non mi lasciare adesso in questa valle di lacrime. E' uscito un liquidino però. Si è buono anche lui. Questo ha un sapore proprio. Cioè gli altri erano un po' insibili. Ma io sono aglio. Cipollotto. Si. Per me la cipollotto. Eccoli. Porca, ragazzi. No, ragazzi. Sbaglietti. Questi cosa sono? Cagnotti? Questi sono i figli dei primi. Un pinolo tostato. Uno alla volta o si prendono a... Questi li metti nel latte? Cereali. Cereali sono proprio le zampettine. Non so di niente. Buoni. Hai presente quando ti rimane l'ultima patatina nel sacchetto? Quella che non vuole mangiare nessuno? Stanno di patatine scondite. Un po' di sale ci vuole. Eh sì, mangiamoci di tutti. Ognuno ha un gusto diverso comunque, davvero. Aperitivo a base di camole della farina e birra. Inizierò a mangiare insettini anche a casa probabilmente. Questa è buona. Beh, il cimbo del futuro... Non so se veremo il prossimo video. No. Che alla fine tutto questo scalpore per gli insetti. Cioè mangiamo i gamberetti, mangiamo le cozze, mangiamo qualsiasi tipologia di animale perché gli insetti no. Non è che mi è rimasta una zappa. No. 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 No.